Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli scintille a Ibiza. Un ritorno di fiamma dopo la rottura. Prima di cominciare vi chiedo di sostenermi con un pollice in su e di iscrivervi al mio canale così non perderete i video futuri. La storia d'amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continua a tenere banco nelle cronache dell'estate 2023. Dopo un periodo di separazione, l'ex coppia si è ritrovata insieme a Ibiza, dando vita a un'inaspettata e appassionante riappacificazione. La rottura annunciata da Daniele pochi giorni fa, aveva lasciato i fan con il cuore spezzato, ma sembra che il destino abbia in serbo per loro una nuova possibilità. Daniele ha fatto un gesto romantico e sorprendente, raggiungendo l'isola dove Oriana soggiornava per lavoro. Tuttavia, la situazione è diventata subito interessante, poiché Oriana ha inizialmente rifiutato di aprire la porta del suo hotel quando lui si è presentato. Questo gesto ha alimentato le speculazioni e ha fatto scatenare una serie di commenti da parte dei loro affezionati fan. Nonostante l'iniziale resistenza di Oriana, il destino ha deciso di fare un'altra mossa. Recentemente, sono stati avvistati insieme fuori dal Residence Las Boas, dove lei alloggia a Ibiza. Questo nuovo avvistamento ha riacceso la speranza tra i fan della coppia, che ora attendono con ansia di scoprire cosa riserva il futuro per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La loro relazione è ormai diventata una sorta di sop-opera virale dell'estate 2023, con colpi di scena e imprevisti che tengono incollati i telespettatori. Mentre il tira e molla prosegue, la domanda su cosa riserverà il prossimo capitolo di questa tormentata e avvincente storia d'amore rimane sospesa nell'aria. Accendendo l'entusiasmo dei fan e tenendoli sulle spine. Sarà questa volta la definitiva riappacificazione o ancora una tappa del loro complesso percorso. Solo il tempo potrà svelare il futuro di Oriana e Daniele, due cuori che continuano a cercarsi tra alti e bassi, confermando che l'amore è un sentimento sempre capace di sorprenderci. Se vi è piaciuto il video, non dimenticate di lasciare un like o un commento e condividere con i vostri amici. Ci vediamo alla prossima. Ciao!